Da un trafiletto su Art Tribune di questo mese invece leggiamo questa notizia. Entra nella collezione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma un'opera del pittore Ludovico Arguziagene di Pietra, nato nel 1889 e morto nel 1951. Si tratta di un monocromo bianco sul vetro su cui compare la scritta in nero, su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. È un'opera protoconcettuale datata al 1921 che risulta un unicum nel panorama artistico italiano di quegli anni. Con la speranza che questa acquisizione possa dare nuova linfa all'approfondimento dell'opera di questo artista ancora sconosciuto, intanto possiamo goderci senza sottotitolo. Questo è il bizzarro titolo dell'opera esposta alla gnamma. Grazie a tutti.